ciao sono il dottor max in questo video ti spiego quali sono i segni della zoppia nei cani la zoppia nei cani è un segno di disagio o dolore in una o più zampe i segni di zoppia possono variare in base alla causa sottostante e alla gravità del problema ecco alcuni dei segni comuni che possono indicare la presenza di zoppia in un cane zoppia il segno più evidente è la zoppia che può variare da una leggera claudicazione a una zoppia grave il cane può sollevare una zampa o una parte del piede durante la camminata o evitare di appoggiare completamente una delle zampe mancanza di equilibrio il cane può sembrare instabile o disorientato a causa del disagio del dolore riduzione della velocità il cane potrebbe rallentare il passo o camminare con cautela salto ridotto evitato il cane potrebbe evitare di saltare su divani o letti o potrebbe faticare a salire o scendere da oggetti elevati rigidità o inflessibilità il cane potrebbe sembrare rigido o meno disposto a muoversi specialmente al mattino o dopo un periodo di riposo leccamento e mordicchiamento il cane potrebbe leccare o mordicchiare la zona dolorante come tentativo di alleviare il disagio gonfiore o arrossamento in alcuni casi la zona interessata potrebbe presentare gonfiore o arrossamento scricchioli o rumori articolari se la zoppia è causata da un problema articolare come l'artrosi potrebbero essere udibili scricchioli o rumori articolari durante il movimento calo dell'appetito o cambiamenti comportamentali in alcuni casi il cane potrebbe perdere l'appetito o mostrare cambiamenti comportamentali dovuti al dolore tremore o intorpidimento in casi gravi il cane potrebbe sperimentare tremori muscolari o intorpidimento nella zona interessata lingua respirazione affannosa nei casi più gravi il cane potrebbe respirare più rapidamente o avere la lingua pendente in modo insolito a causa del disagio è importante notare che la zoppia può essere causata da una serie di condizioni tra cui infortuni lussazioni fratture problemi articolari malattie autoimmuni infezioni o tumori se il tuo cane zoppica o mostra segni di disagio è fondamentale consultare un veterinario per una valutazione e una diagnosi il veterinario condurrà un esame fisico potrebbe richiedere esami diagnostici come radiografie o analisi del sangue e svilupperà un piano di trattamento appropriato per affrontare la causa sottostante della zoppia grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video che puoi commentare raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità buon proseguimento ci vediamo alla prossima domanda esaminata grazie a tutti grazie a tutti